... Questa mattina sovralluogo del sindaco Conoci e dell'assessore Montis con i rappresentanti del consorzio industriale nella zona di San Marco dove sorgerà l'impianto per la gestione della Posidonia. Si procede spediti a portaterra alla conferenza di servizi. I capi gruppo di Forza Italia e noi con Alghero, Nunzio Camerada e Maurizio Pirisi commentano positivamente il via libera definitivo al piano di conservazione e valorizzazione della bonifica. Ora si guarda al PUC. Un inizio di stagione all'insegna di riconoscimenti per l'antica compagnia oleare a Sarda, azienda leader non solo in Sardegna. Nel Tg l'intervista con il titolare Antonio Gavino Fois. Un saluto a tutti voi, bentrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale. Questa mattina siamo andati nella zona industriale di San Marco dove si è svolto un sovralluogo del sindaco Mario Conoci con l'assessore all'ambiente Andrea Montisi e rappresentati del consorzio industriale provinciale di Sassari nell'area individuata per la realizzazione dell'impianto di messa riserva della Posidonia. L'area si trova nella zona industriale di San Marco appunto in viale del progresso. Amministrazione comunale e consorzio industriale proseguono quindi nel percorso avviato dalla Giunta con la promozione dell'accordo di programma per il coordinamento delle azioni per la migliore gestione della Posidonia. La costruzione di un centro a San Marco per la gestione della Posidonia spiaggiata permetterà un enorme risparmio per le casse comunali se consideriamo che lo scorso anno il Comune aveva dovuto sborsare migliaia di euro per il trasporto a quarto. Questa mattina subito dopo il sovralluogo Comune e consorzio hanno proceduto a porta a terra alla conferenza di servizi per la definizione dei termini dell'accordo di programma per la realizzazione dell'impianto. Questa mattina appunto ce l'avamo anche noi a San Marco. Sentiamo le parole del sindaco Conoci e dell'assessore Montis. Allora sì, stamattina è una giornata importante perché abbiamo fatto un sovralluogo a San Marco dove con il Consorzio Industriale abbiamo individuato l'area per risolvere finalmente il problema della Posidonia. Quello che è stato storicamente per la nostra città un problema diventa una grande opportunità perché da un punto di vista ambientale si recupera la sabbia che è il bene più prezioso che abbiamo. Da un punto di vista invece della foglia della Posidonia faremo un accordo con l'università per studiare i possibili utilizzi e insomma crediamo che questo sia un passo concreto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile. Nei giorni scorsi abbiamo approvato la delibera sull'accordo di programma in giunta comunale. Nei giorni successivi altrettanto abbiamo fatto con il Consorzio Industriale. Oggi facciamo la conferenza di servizi che predisporrà l'accordo di programma. Quindi stiamo cercando di accelerare il più possibile, ripeto, per far diventare quello che è stato storicamente un problema una risorsa importante, creare anche dei posti di lavoro. Insomma mi pare che la sinergia fra istituzioni stia funzionando e possa produrre risultati positivi. Assessore, qualche giorno fa i nostri microfoni aveva parlato di alcune novità eminenti e quella di quest'oggi è una di queste. Ma sì, abbiamo aspettato a esplettare quelli che erano i nostri piani perché ci piace essere più che altro concreti senza fare degli annunci roboanti che poi finiscono in nulla. Oggi siamo qua per un primo sopralluogo nell'area dove potrà nascere l'impianto per il trattamento della Pusidone. Siamo molto contenti di questo perché abbiamo sin dall'inizio del nostro mandato cercato soluzioni alternative a quelle che finora sono state attuate. Le abbiamo individuate appunto nell'accordo di programma previsto dall'articolo 34 del testo unico degli enti locali. Con il Consorzio Industriale stiamo andando avanti. Siamo molto contenti di questo e pensiamo che sia una soluzione che potrà portare beneficio a tutta l'area vasta del nord ovest della Sardegna. Sentiamo ora anche le interviste con Valerio Scano, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e con Pietrino Foist, amministratore straordinario della provincia. Ci troviamo nell'area dove sorgerà il centro per il trattamento della Pusidonia dal quale si recupererà poi la frazione sabbiosa. Un passo importante per questo territorio? Assolutamente sì. Abbiamo accolto con grande favore la proposta dell'amministrazione comunale di Alghero di collaborare e addirittura andare a realizzare questo impianto che ci consentirà di restituire intanto la sabbia che si recupera dal trattamento della Pusidonia e favorire così un tipo di attività di economia circolare per riutilizzare ciò che residua dal trattamento di questa pianta. Un aspetto importante è anche quello occupazionale? Assolutamente sì. Contiamo noi già come Consorzio Industriale, abbiamo oltre all'area che mettiamo a disposizione, abbiamo strutture ma soprattutto abbiamo risorse umane fatte di competenza, di professionalità ed esperienza che sapranno sicuramente mettersi a disposizione per gestire questo importante progetto. I tempi? Sui tempi non possiamo ancora pronunciarci proprio perché siamo in attesa della progettazione definitiva, delle varie autorizzazioni provinciali e regionali, ma contiamo di correre proprio per arrivare al più presto a realizzare questo impianto. Amministrazione comunale, provincia, consorzio industriale in campo per un progetto importante? Certo, è un progetto definitivo, molto interessante, non solo per Alghero ma anche per tutto il litorale che è in provincia di Sassari e non solo. Non solo avremo la possibilità di recuperare la sabbia, la recuperiamo a pochi chilometri da Alghero senza inviarla a 300 chilometri come successe fino adesso. Soprattutto la Poseidonia verrà recuperata anche per altre spiagge che oggi ci stanno chiedendo soccorso per ripacimento. Quindi un progetto, credo, di grande innovazione ma soprattutto fatto ad Alghero, quindi per noi un prestigio straordinario. E a proposito di ambiente, polemiche tra la maggioranza e il centrosinistra dopo la seduta ieri della quinta commissione a detta dell'opposizione si vuole separare la gestione di parco e area manina protetta, come era sino a un po' di tempo fa, per creare posti di sottogoverno. Non c'è alcuna volontà di creare poltrone, ribattono invece i capigruppo di centrodestra. Situazione attuale e prospettive future dell'area marina protetta Capocaccia Isola Piana. Con quest'ordine del giorno ieri si è riunita la commissione ambiente presieduta da Cristia Mulas. Per il centrosinistra con la riunione di ieri si è in realtà attentato alle unità delle nostre aree protette. Una decisione, quella di accorparle, che a detta dell'opposizione ha ottimizzato le funzioni dei due organismi di tutela sulle terre e sul mare, coincidenti nella stessa area che ha trovato accoglimento da parte del Ministero dell'Ambiente della Regione, che, mantenendo distinte le due soggettualità, affidando al direttore del Parco Terrestre anche la gestione congiunta dell'area marina, che continua ad avere finanziamenti e vita propria. A nome del centrosinistra, ieri il consigliere comunale Valdo di Nolfo ha sottolineato la contrarietà al ritorno al passato e alla separazione della gestione. Idea scelerata, il cui unico obiettivo è quello di creare posti di sottogoverno, poltrone da destinare a soddisfare gli appetiti di tutti i partiti che sostengono la maggioranza di Mario Conoci, denunciano Sartore, Esposito, Bruno, Cacciotto, Pirasi e Pirisi, con lo stesso di Nolfo. Quella che più ci preoccupa è la risposta data in commissione dell'assessore all'ambiente, che aggrappandosi con le unghie sullo specchio della molle di lavoro del direttore Mariani, butta a mare i risultati raggiunti con grande efficacia negli ultimi anni. Diciamo no al ritorno al passato, moltiplicando poltrone e riducendo l'efficienza. Si fa solo un clamoroso tonfo, un passo indietro pericoloso nelle politiche ambientali, accusano i sette consiglieri di opposizione. L'amore per le poltrone della sinistra è così forte che le sogna anche dall'opposizione la secca replica dei capi gruppo di maggioranza. Non avendo avuto argomenti per svolgere il proprio ruolo per cinque anni, in cui ha propinato false illusioni agli algheresi, continua a lanciare fumo negli occhi, probabilmente in forte imbarazzo per le azioni svolte dall'amministrazione Conoci sul tema ambientale, sul miglioramento del servizio di igiene urbana in città e nell'agro, sulla gestione della Poseidonia e sugli obiettivi che si stanno raggiungendo proprio con l'accordo di programma con il Consorzio Industriale e Provinciale. La sinistra inventa false notizie per distogliere l'attenzione, proprio come faceva quando governava, attaccano i capi gruppo Camerada, Pirisi, Ansini, Pulina, Mula, Sbamonti e Trova. Da una parte alza cortine fumogene per mascherare l'incapacità di svolgere il proprio ruolo di opposizione deciso dagli algheresi, dall'altra ammette pubblicamente che l'amministrazione sta lavorando bene e con competenza. Stiano tranquilli i consiglieri di una parte della minoranza, non c'è alcuna volontà di creare poltrone, c'è invece la volontà di fare meglio, di dare finalmente risposte serie agli algheresi, al contrario di quanto si è fatto in precedenza, concludono dal centrodestra. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria tra poco. Ancora la politica in apertura di seconda parte, torniamo però sul via libera definitivo da parte del Consiglio Comunale al piano di conservazione e valorizzazione della Bonifica. I nostri microfoni capigruppo di Forza Italia e noi con Alghero, Nunzio Camerada e Maurizio Pirisi spiegano quali saranno i prossimi passi in occasione, in discussione della prossima seduta, tra l'altro una mozione per apporre alcune modifiche. Via libera definitivo al piano di valorizzazione e conservazione della Bonifica, un atto importante dal punto di vista urbanistico. Ah sì, certamente un traguardo per la città e per il territorio e per la Bonifica. Devo dire che è stato un percorso abbastanza complicato, abbastanza complesso in tutte le sue fasi. Questa nuova maggioranza è riuscita a contenere i tempi. In poco meno di sei mesi si è chiuso un percorso amministrativo che andava avanti quasi cinque anni. È un successo per la politica, è un successo soprattutto per la città, è un successo per l'agro, che finalmente potrà essere agevolato nel portare avanti interventi finalizzati alla promozione e valorizzazione dell'attività agricola. È un primo passo verso la realizzazione del piano urbanistico, che dovrà essere invece lo strumento per eccellenza in termini di pianificazione non solo urbana, ma di tutto il territorio di Alghero. Come ha detto il consigliere Pisi, prossimi passi, piano urbanistico non solo? Sì, piano urbanistico non solo, ci sta già lavorando, ma resta ancora da definire qualcosa per quanto riguarda il piano di valorizzazione. Nel senso che i sei mesi, come diceva Maurizio, sono stati indispensabili per poter recepire tutte quelle indicazioni che erano arrivate dalla Regione per l'ultimo atto appunto del piano. Il vero è che l'Itera era molto avanzato e purtroppo sono rimasti ancora degli errori, degli errori cartografici, degli errori di interpretazione, che devono essere assolutamente chiariti. Uno per tutti, il famoso canale Urune, che ancora si trascina un errore proprio sul tracciato del percorso, la copertura delle aree boschive, abbiamo delle zone di macchia mediterranea, che la legge è simile al bosco, ma vanno interpretate bene perché ancora delle grandi porzioni del territorio sono vincolate appunto per questo motivo. Quindi diciamo che rimane ancora queste specificazioni da fare. Sono doverose e soprattutto ciò che ci interessa rimarcare è che finalmente, per quanto si porti dietro i vincoli, il canale Urune, però è individuato come un canale artificiale, cosa che la prima impronta del piano non specificava, quindi ora esistono dei vincoli, ma assolutamente è stato definito la natura di questo canale, quindi non un fiume o un corso d'acqua, ma un canale artificiale realizzato dall'uomo e quindi così deve essere interpretato. Quindi cosa ci sarà da fare adesso? Adesso si tratta di intraprendere quel percorso che potrà portarci alla correzione di questi errori. È stata proposta in Consiglio una mozione che impegna il Sindaco ad intervenire presso l'assessorato regionale all'urbanistica proprio perché si individuano le modalità di correzione di tutti quegli errori che limitano in qualche modo la normale programmazione del territorio. Così come il piano di valorizzazione della bonifica è stato approvato all'unanimità, io mi auguro che la mozione presentata nel corso del precedente Consiglio, riportata in discussione al prossimo Consiglio Comunale, possa anche essere arricchita dal contributo di tutto Consiglio e naturalmente approvata all'unanimità perché le darebbe certamente più forza nell'ambito poi del contesto regionale. Tutti gli errori della giunta Bruno arrivano al pettine. Così i tre autisti di Scuolabus lasciati a casa dalla ditta che aveva assunto il servizio nel settembre del 2016. Commentano la sentenza del Tribunale del Lavoro di Sassari che ha condannato il gestore del servizio Scuolabus all'assunzione dei tre lavoratori, al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione e alla rifusione delle spese legali. Un atto di giustizia sostanziale, commentano Idda, Azzori e Fiori, che costituisce un'implicita condanna dell'amministrazione Bruno. Uno schiaffo in faccia agli ex amministratori che all'epoca della nuova gara d'appalto avevano espressamente garantito la salvaguardia dei livelli occupazionali di autisti e assistenti di bordo. Salvo poi, una volta che i tre lavoratori sono stati messi alla porta, infischiarsene sfacciatamente non tutelando tre famiglie lasciate senza reddito e un minimo di sostentamento. Un atteggiamento pilatesco, concludono che indirettamente ha avuto una pesante sanzione morale da parte del Tribunale di Sassari. E domani a Maristella, dalle 8 alle 12, inizia la nuova iniziativa dell'amministrazione comunale denominata da Sbarassanetot, Sbarazza Tutto, con il quale i cittadini di Alghero e delle sue borgate potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, depositandoli comodamente in punti di raccolta ben stabiliti. Al fine di produrre meno rifiuti, durante la mattina del conferimento si potranno ritirare oggetti conferiti da altri ma ancora utilizzabili nell'ottica del riuso. Le giornate di deposito controllato di ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell'agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento. L'iniziativa del conferimento di rifiuti ingombranti viene attuata con successo in tanti altri comuni che mira a contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato, soprattutto nelle campagne, con costi di recupero altissimi per tutti i cittadini. L'Avis Alghero invece organizza una giornata di raccolta sangue. Domani presso la scuola materna di Via Matteotti, dalle 8 alle 12, sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. Mentre domenica mattina invece è stata convocata la 51esima assemblea annuale dei soci presso il salone della chiesa della Mercedes, in Via Giovanni XXIII, partire dalle ore 9 in prima convocazione, mancanza di numero legale alle 10 in seconda. Ci fermiamo ancora per un altro break, tra poco con l'ultima parte. L'antica compagnia olearia Sarda ha ottenuto nei giorni scorsi il prestigioso riconoscimento delle 5 gocce di bibenda con il suo olio Camp del Rei. La guida bibenda, giunta al 21esimo anno di pubblicazione, è l'unica in Italia nel suo genere, la più completa del settore enogastronomico made in Italy, nonché riferimento per i consumatori, gli appassionati e i professionisti del settore. Inoltre un altro olio, la Stanas è stato ammesso al concorso internazionale il Leone d'Oro. Un inizio di stagione all'insegna dei riconoscimenti, dunque, che conferma l'antica compagnia olearia Sarda, azienda leader, non solo in Sardegna. Sentiamo allora proprio l'intervista che abbiamo realizzato, ha realizzato la nostra Dolores Serra, la titolare dell'antica compagnia olearia Sarda. Siamo in compagnia di Antonio Gavino Fois dell'antica compagnia olearia, parliamo naturalmente di olio, un oro per noi qui ad Alghero, e non solo. Una nata del 2020 sicuramente positiva? Sì, sì, assolutamente positiva. È stata una bella nata, ci ha accompagnato anche un bell'inverno trappillo, ci ha fatto raccogliere e lavorare in un modo quasi unico, la verità. Infatti abbiamo avuto anche una bella produzione e noi addirittura abbiamo lavorato fino al 18 febbraio. Parliamo dell'azienda, si è allargata, è sempre uguale? No, no, l'azienda sta crescendo. In questi anni praticamente ha fatto dei grossi passi, hanno avanti, ha fatto dei grossi investimenti. Ne abbiamo anche uno in corso molto importante di investimento. praticamente stiamo investendo su 80 itali di terreno. Quindi si continua? Sì, assolutamente, si continua. Il futuro per noi non ci spaventa, la verità. Investire quindi significa anche raccogliere poi i frutti di quello che si va a fare. Voi avete ricevuto due riconoscimenti molto importanti. Intanto le cinque gocce bibenda per un olio che poi ci dirà. Ma poi è dell'ultima ora la comunicazione che siete in finale al concorso Leone d'Oro. Sì, certamente, dice bene lei. Abbiamo confermato già da qualche anno, confermiamo come bibenda le cinque gocce per i campi del Re. Un olio verde in inizio di stagione. Il Leone d'Oro ha confermato ancora una volta la qualità della Stanas. Speriamo e aspettiamo altre notizie di altri concorsi. E allora, complimenti ovviamente all'antica compagnia olearia Sarda. Giustizia e misericordia sarà il tema affrontato nel corso della tavola rotonda prevista nel cammino formativo annuale della Scuola della Parola e promosso dall'Ufficio Catechistico della Diocesi di Alghero Bosa, settore apposolato biblico, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Macomera e l'Università delle Tre Età di Alghero. I protagonisti dell'incontro pubblico saranno il frate francescano padre Salvatore Morittu, responsabile dell'associazione Mondo X, il magistrato del Tribunale di Sassari, dottor Salvatore Marinaro, presidente della sezione penale del medesimo foro. La tavola rotonda si svolgerà quest'oggi a Macomera alle 18, nella sala consigliere del Comune. Domani, invece, qui ad Alghero, sempre alle 18, però nel salone dell'ex seminario diocesano di via Sassari. La partecipazione è aperta a tutti. Un appuntamento, infine, per questa sera, invece, alle 22, in programma al Poco Loco, il doppio concerto di Monze Castellà e Yasmin Bradi all'Alghè, che vede protagoniste due donne con la musica nel cuore. Un appuntamento del Festival Banna Sanzi, in collaborazione con la Plataforma per la Liengua. E per oggi è tutto, io come sempre vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.